allora che gioco è? bg bg e fin qua si sa che gioco è allora è The Possession Experiment non so come mettere... che è più giusto? ce l'ha scritto in fondo F ah perché è lì cazzo schifo sei uno scienziato con DM Corp un'organizzazione dedicata all'esperimentazione del colpare normale che lavora nella base 75 nel loro top secret nel loro bunker sotterraneo top secret testare human... testando la possessione umana almeno non basse 51 ea topo... eh vabbè... se la 51... tipo... andiamo alla posizione da lutteranno un giorno un'entità è scappata ah non è scappata è una N mi sembra una R perchè è un po' si aspetta... ah no allora un giorno un'entità è scappata dal contenimento allora... un dispositivo si vuole tradurre non sta funzionando la facilità è nel chiudere a porta più lo staff... è morto è morto è morto e ora tu sei intapolato in una stanza di controllo senza connessione con l'uncomone esterno tu devi uscirne devi riparare le MP device cioè il dispositivo MP per neutralizzare l'entità e per spendere la sensore P ma che eh l'MP device finisca la batteria ma non devi aggiustarlo a quanto poi le dalle aggiusta il telefono devi scappare prima che il telefono si scarichi devo ripararlo o devo usarlo? scusate sei intrappolato nella sala da sei il controllo l'ha appena gli detto quindi devi usare i tuoi soggetti per la tua possession per il tuo esperimento in possession e per scappare quindi sei il bastardo che manipola la gente ok prima te quanta roba pausa game ok vabbè iniziare l'esperimento non so di cosa esperimento oh soggetto 3 5 e 6 falliti 7 dei left monitor mi fa controllare nuovo soggetto fermo se un microonde aspetta lady weapon fermo eh action action f è indeciso c'è un soggetto pistola pistola scusami lascia un altro r f muo 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 tan 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 passa guarda fai si fai si scusami r porca tro il reverso poche cazzo gira tipe piglia l'oggetto degli ho sbagliato vabbè eh ah no avanti puttana ma no no scappo scappo mi sono cagato il mono spara non riesco non funziona non funziona lei oh cazzo sta avvenendo verso di te non riesco a togliere il monitor sto cagato in mano eh allora mi sa che sta avvenendo verso di te eh non riesco a togliere non so come non ho sbagliato non so come togliere mi sa che non puoi cosa zoom che fa capire dov'è cosa da dall'interferenza dall'interferenza guarda guarda l'interferenza c'è solo nella 10 e come faccio a chiudere la porta perché ciao cazzo aspetta che ci fa ahhh è intatto ciao no è nella diazola no è nella diazola ma te lo puoi muovere un altro soggetto ah lan shift e sei morto ah no ok porca puttana no è nella diazola mi sa che devi usare ah devi usare un altro soggetto si beh no no aspetta non me lo dire potevo scegliere quale ama usare da qui ah non puoi non c'ha non c'ha userlo il ritmo quindi potevo usarlo da qui aspetta c'è senza ok c'è nessun c'è scritto left behind you dove c'era venuto scritto lì dietro di te cazzo ma dove era morto eh vaffanculo che cazzo fai sbaglio sempre corri corri come si fa di correre lama scusami non viene qua cheat non viene qua per la correre lama com'era ff via tutto su questo no ammo munizioni ripiglia le si si ora devi solo trovare un'arma vera premo 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 so io come fare c'è un coltello lì si salve ferito lo so è l'ultimo colpo che mi posso subire e vaffanculo q mi sa che dopo questo quittiamo no lui arriva da te non lo so scappa ma chi è? non riesco a prendere il coltello no attaccalo aspetta non posso aspetta mi devo curare ok 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 vedi con quale lentezza 10 continuo 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 poi è morto già fatto? dai gioco finito bella cosa c'è qui? c'è qualcosa c'è qualcosa c'è qualcosa qui è successo? un ventaglio piano eeeh un papiro te pagine armi? unizioni? pistol amno capire ancora ancora ancora? non sono munizioni ruide siamo morti smettiamo perché non c'è capito un cazzo di come funziona smettiamo perché non c'è capito un cazzo di come funziona pigliamone un altro